Ok eccoci qui era tanto tempo che non registravo un video mi sentivo in dovere di dirvi un po cosa sta succedendo al mio canale perché non sto pubblicando dei video e quant'altro Ok come potete sentire e vedere sono influenzato quindi scusate per la mia voce però sto parlando senza naso cioè sto parlando sto respirando soltanto con la bocca e respirare e parlare non è un cranché Perché non sto portando video sono impegnato progetto lavorativo e quindi mi impiega la maggior parte del tempo e quindi non ho avuto né voglia né tempo per fare video su youtube Vi parlo sinceramente non ho avuto grandissima voglia di fare video su youtube come gameplay oppure vlog qualsiasi cosa quindi ho staccato un attimo però adesso vorrei un po' ricominciare Non un video ogni giorno oppure un video un giorno sì un giorno no però magari magari vediamo di fare un video a settimana o due video a settimana vediamo come cosa riusciamo a fare Comunque sono ancora vivo e ci saranno dei miglioramenti come per esempio questo di qui non so se l'ho fatto vedere l'ultimo vlog ho comprato il smart love della road Che raga è spettacolare si collega il cellulare ecco qui anzi ok forse si intravede qualcosa comunque sto registrando la mia voce da questo qui che è uno spettacolo Poi ho fatto i miglioramenti al mio pc questo di qui guardate tipo qui notate nulla di strano avevo bisogno di un aggiornamento al mio pc non che non era potente soltanto volevo qualcosa in più E quindi ho deciso di dar via la mia 1070 founders edition e prendere la 1080 ti della evga sc ed è il modello con due ventole Comunque è una bestia ho preso due faretti uno degli ognuno credo si pronunci così e l'altro dell'under Che sto utilizzando rispettivamente per fare dei contro uno qui e uno qui alla mia destra Comunque adesso vi faccio vedere un po le immagini di questi due faretti se volete la recensione completa scrivetemelo qua sotto nei commenti che io ve la faccio Ho preso anche un monitor esterno che sto... no forse questo qua già ve l'ho fatto vedere raga Comunque adesso ve lo faccio vedere un po com'è sto schermino non è granché però è un full hd della newware che è il modello nw760 E niente ragazzi non so che non so che dirvi Presto ritorneranno di nuovo i gameplay Decensioni se la volete scrivetelo qua sotto nei commenti Tutta la roba che ho detto prima la trovate qui sotto nella descrizione con i link ad amazon Se volete supportare il canale comprate da questi link Che a voi non costa nulla non vi aumenta il prezzo e a me arriva una piccolissima percentuale Io volevo fare un'altra domanda che ne dite se vi faccio un confronto tra i vari microfoni che ho come per esempio Sto toccando questo microfono non so che cosa succede Tra i vari microfoni che ho cioè tra questo di qui la valiere il micro il rod video micro e il samson meteor mic Che è questo di qui lo vedete sfogato e anche la qualità della videocamera stessa oppure anche del cellulare Scrivetevi qua sotto nei commenti che ve lo posso fare Quindi per oggi è tutto ragazzi spero che capiate la mia situazione Quindi noi ci vediamo al prossimo video Ciao